bella a tutti ragazzi benvenuti nella taverna dello svapo oggi andremo a recensire questo nuovo liquido del king liquid la smorfia numero 10 xxl preso al vapitali dallo svapo dream vi lascio al video eccoci arrivati al video come al solito io sono gabriello birillo volevamo come prima cosa è ringraziare la sala per averci fatto l'intro ora andiamo a fare vedere liquido e a fare la prova della smorfia alla roma numero 10 allora come composto questo liquidozzo qui al suo interno c'è 60 ml di aroma e ci va aggiunto 140 ml di base neutra allora chi ci vorrà nicotina ci può aggiungere un goce di nicotina noi stiamo svappando a zero ora andiamo a fare la prova di questo liquido preso da svapo dream al vapitali vai viaggi l'ho messo qua nella boccetta che è molto più comoda lo andrò a provare sulla mac pro e il druga io sopra la wismac col google la boccetta anche carina perché sembra quasi una fiaschetta del nonino quando va nella cantina a prendergli il vino bella questo qua è liquido alla cioccolatura a me mi ricorda il nesquik nesquik uguale uguale a nesquik uguale a nesquik questo qua la sua fotocopia è vero quando facevi la colazione con nesquik uguale che cosa ci dai gabi a questo liquido nove e mezzo nove e mezzo se merita tutti hai un bel boccione di liquido che ti dura allora dalla tavena d'osvapo è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo la pagina su facebook e su instagram veniteci a trovare vi aspettiamo ciao